Benvenuti in Aspiranti Cafè, io sono Michael e questo è il luogo in cui gli aspiranti fotografi si ritrovano per riflettere delle esperienze, il percorso e la vita nella fotografia, il tutto in 10 minuti molto jazz. Buonasera Aspiranti Fotografi e benvenuti a una nuova puntata di Aspiranti Cafè. Allora, partiamo dai commenti della puntata della volta scorsa. In realtà ho detto dai commenti piuttosto che dai commento perché tra quelli che mi avete mandato, quindi tra quelli di Rob, Stefano, Maria Antonietta, Nicola e altri che mi sono arrivati per messaggio privato, ho notato una cosa. Ognuno ovviamente commentava a suo modo con le proprie idee, però c'era un filo conduttere tra la maggior parte di questi commenti, che era, diciamo, una mancanza di autostima. Infatti la volta scorsa parlavamo di quanto io consigliassi come esercizio fotografico quello di farsi fotografare e appunto tanti commenti erano su questa linea della serie. No, ma io non mi imbarazzerei, oppure no, non mi sento all'altezza, oppure no, questa cosa non fa per me. Insomma, tutte cose che si potrebbero racchiudere sotto la macrosfera dell'autostima. E volevo parlarvi di questa fantomatica appunto autostima perché per me è stata essenziale nel cambiamento che ho fatto dall'attitudine da dipendente all'attitudine da professionista. È stata quella l'ingrediente fondamentale che ha fatto sì che io potessi mettermi in proprio e poi avviare quella che è stata la mia carriera fotografica. Insomma, molto virgolettata, però sicuramente quello è stato uno degli ingredienti fondamentali, soprattutto all'inizio. E poi devo dire lo è tuttora e sull'autostima continuo sempre a lavorarci. Ma allora la domanda che viene spontanea è, ma come mai è stata così importante? E soprattutto come è fatto a fare questa iniezione di autostima, no? Perché dovete sapere che io per anni, come vi dicevo, ho lavorato in un'azienda di mio padre e comunque avevo poca autostima. Insomma, non mi sentivo di meritare il successo in qualche modo, no? E vedo che questa cosa la provano in tanti, insomma, non sono l'unico. E visto che oggi ho una buona autostima, devo dire che mi stimo molto e lo dico proprio con tranquillità e chiarezza e a volte so che può sembrare strano che qualcuno lo dica, no? Perché a volte sembra più bello e più umile dirsi, no, ma io non mi ritengo all'altezza. Invece no, io mi stimo e mi ritengo all'altezza di fare molte cose, molte cose so che le devo imparare. E volevo sottolineare, prima di iniziare, una differenza sostanziale, quella che c'è tra autostima e arroganza. Allora, l'arroganza è quella di sentirsi superiore agli altri, e invece l'autostima è quella di non sentirsi inferiore a nessuno. E credo che sia, insomma, un bel modo di definire l'autostima. Bene, detto questo, allora, perché ritengo che sia importante l'autostima? Mi sono segnato alcuni... sei punti. Andiamo velocissimo. Allora, il primo credo che sia importante perché ti permette di esprimere al 100% la tua creatività. Cosa intendo dire? Se tu hai una mancanza di autostima, finirai per fare le cose facili, per fare le cose che sai che possono andare bene, contro quelle che invece tu ritieni giuste. Perché la mancanza di autostima fa sì che tu non riesca a esprimere a te stesso per quello che sei davvero, no? Per quello che pensi di essere davvero, perché sei troppo vincolato al parere che hanno gli altri o che avranno gli altri di te. E perciò questo inficia e sconfigge la tua creatività. Quindi avere autostima sicuramente contribuisce a questo. In più ti permette di crescere più velocemente. Infatti hai la possibilità di, lavorando sulle tue abilità e su quello che tu ritieni importante per te, riuscirai a crescere maggiormente. E spesso non lo si fa perché non ci si ritiene all'altezza di poter, di saper fare una cosa o di poterla fare. E questo già ti frena, no? E quindi la tua crescita ne risente tantissimo. E ve lo dico perché sono stato la prima persona ad essere, ad avere poca autostima, no? Quindi a stimarmi poco. In più ti permette di assumerti le responsabilità. Terzo punto, è importantissimo. L'autostima ti permette di assumerti le responsabilità. Che io credo che sia uno degli ingredienti fondamentali della vita da autonomo. Spesso noi siamo, e spesso anche io lo faccio ancora, imputiamo le colpe ad altri. Invece dobbiamo ricordarci che è nostra responsabilità. Quasi tutto. Quasi tutto è nostra responsabilità. Soprattutto se un'attività improprio è quasi tutto tua responsabilità. Anzi, io direi tutto tua responsabilità. E per assumerti il carico della responsabilità devi avere autostima. Perché se no, non avrai mai le spalle abbastanza grosse per reggere il carico. Ed è difficile. Difficile, come dire, consolidarsi, ma è un passo assolutamente da fare. E questo ti farà, come dire, progredire in maniera esponenziale. Poi l'assunzione della responsabilità ti aiuterà tantissimo nei rapporti. Perché, insomma, penserai sempre a, tra virgolette, puntare il dito prima verso di te e poi verso gli altri. Che è una cosa interessante. Poi, andiamo avanti. Ti permette di gestire meglio i clienti. Quando sei davanti a un cliente e questo cliente vuole uno sconto, tu come reagisci? Quando sei davanti a un cliente e questo cliente ha delle richieste assurde, tu come reagisci? Ti prostri e cerchi di andarli sempre incontro perché hai paura, perché hai paura del suo giudizio, perché hai paura di perdere il cliente? Oppure hai un'autostima tale da poter gestire il confronto, da poter avere il controllo della situazione, da poter far sì che la tua voce abbia valore in capitolo. Che poi, la voce di un fotografo ha sempre valore in capitolo, no? Perché sei tu che conosci il tuo lavoro e sai quali possono essere i limiti di una situazione piuttosto che un'altra. Non sapete quante volte mi sono ritrovato in contesti in cui magari il mio cliente aveva delle esigenze e però per come erano state predisposte le cose io capivo che non c'era modo di poter andare incontro al cliente. Perciò, anche nel suo rispetto, nei suoi confronti, ho dovuto, come dire, tirare fuori questa mia autostima. Quindi, stimandomi, mi sono detto semplicemente io so di avere valore voce in capitolo e perciò è giusto che io dica le cose come stanno, no? E questo a volte non lo si fa appunto perché si pensa di non avere, come dire, di non essere abbastanza per poter dirla propria, no? Per poter, come dire, tra virgolette, battere un po' i piedi. Quindi, fondamentale anche in questo ambito. Ti permette di fare il salto di qualità? Ah, guardate, io ho notato che ci sono tantissime persone che fanno questo lavoro e che costruiscono l'autostima passo passo, no? Però, se tu ne costruisci una solida, questo ti permetterà di fare il salto più velocemente. È in dubbio perché avrai modo di poterti agganciare con altre persone, avrai modo di poter parlare con altre persone con le quali altrimenti non ti sentiresti in grado e non riusciresti ad interfacciarti con loro, no? E le persone reagiscono a come tu ti imponi verso di loro, a come tu, non come ti imponi, perdono, come ti muovi nei loro confronti. È fondamentale. L'atteggiamento che tu hai nei confronti delle persone è uno specchio rispetto al quale quelle persone si comporteranno poi con te. In ultimo, ti permette di fare foto migliori e questo perché osi, perché sei concentrato su te stesso, no? E sai esattamente come muoverti e cosa fare, sai come gestire le situazioni anche di tensione e questo ti permette di fare foto sicuramente migliori. Ora, è un ingrediente fondamentale, non è l'unico ovviamente, però è davvero qualcosa che noto manca a molti ed è un peccato, un peccato perché io credo che tantissimi abbiano un potenziale enorme e che si può esprimere solo attraverso una sana autostima. Allora, come svilupparla, questa autostima? Velocemente vi do giusto tre spunti, però insomma poi magari se volete ne approfondiamo in un altro puntato o comunque in un altro contesto. Allora, prima cosa, io vi consiglio di cambiare l'ambiente di riferimento, cioè trovare persone che abbiano un'autostima e che stanno facendo qualcosa di importante nella loro vita e aggrapparvi a loro. Vi consiglio di ascoltare il vostro dialogo interno, quello che vi dite, cosa vi dite. Cercate di ascoltarvi e capite cosa non funziona, cercate di cambiare questo dialogo. E poi, in ultimo, fate delle piccole vittorie, cioè ponetevi dei piccoli obiettivi, rispettateli e poi avanzate sempre di più. Questo vi permetterà di coltivare la vostra autostima e di dirvi wow, ma sono bravo, ci sono riuscito, quindi merito, insomma, di fare un passo in più. E questi piccoli passi vi porteranno ad evolvervi. Insomma, un argomento interessantissimo, molto vasto, se volete appunto lo approfondiamo insieme, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo presto con una nuova puntata di aspiranti, caffè, ogni lunedì sera. Ciao.